Prequiesco mi enti in pace. Amen. Avete delle ragioni per chiamarli nel nostro mondo? Vogliamo una dimostrazione oculare di ciò che ci avete insegnato. È arrivato il momento di un'evocazione. No. Ci siamo. Zarias, la lama. Poiché era Pippo con la forza prima di poterlo aggettare. No. No. Sì, 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 sì.